Ciao, benvenuti, io sono Luca di Mr. Gadget e sono pronto finalmente a provare uno dei prodotti più belli del mercato. Dentro questa scatola c'è Asus Zenfone 5Z. Sì, lo so, sono un po' in ritardo, ma vi spiego com'è la situazione. Quando arriva un prodotto noi abbiamo un po' di giorni per provarlo, per poi girare la recensione. Appena viene girata la recensione, viene pubblicata. Poi le aziende vedono questa cosa e ti chiamano per riavere il telefono. Allora io furbo rimando la recensione, così quando Andrea Galeazzi fa la recensione dell'Asus Zenfone 6 io sto ancora provando lo Zenfone 5. No, con calma, che fretta c'è? Ma apriamo questa scatola e vediamo quello che c'è dentro. Allora, viene tutta una scatoletta che al suo interno nasconde in realtà un oggetto molto importante perché Zenfone è molto bello, ma se lo si protegge è, diciamo, cosa buona. Una cover in TPU. E poi il telefono, questo lo guardiamo dopo, se no ci distraiamo. Sotto il telefono, questa è una scatola che è stata un po' maltrattata nel corso delle recensioni, però ci tengo a sottolineare il fatto che ci sia una cuffietta che è ad alta risoluzione, quindi la qualità è quella della high resolution e poi il caricabatterie con il cavo che ha un connettore USB Type-C. Quando parliamo di design siamo sempre nel campo del gusto, quindi ognuno di noi ne può avere uno diverso, ma bisogna dire che questo oggetto, nonostante la somiglianza con iPhone X, è onestamente un prodotto molto carino. Parto dalla parte posteriore dove c'è questo bel magnete per le impronte digitali, che è questa parte in vetro con il sensore delle impronte digitali e con la doppia fotocamera da 12 e da 8 megapixel. Nella parte frontale, display IPS Full HD+, da 6,2 pollici. Bellissima definizione tra l'altro dei colori, devo dire che è stato fatto un settaggio veramente molto molto accurato. È un display 19,9 con un notch, mentre sulla parte inferiore c'è il connettore USB Type-C, l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, tra l'altro c'è una grandissima qualità, le cuffie abbiamo visto con il high resolution audio, e poi, sempre per quanto riguarda l'audio, la riproduzione sia con l'autoparnante inferiore che con la capsula auricolare che riproduce la parte medio alta del suono. Per quanto riguarda il design, poi un lato pulitissimo, c'è solo il cassettino per due nano SIM oppure una nano SIM e una micro SD che può arrivare addirittura fino a 2 TB, poi pulsante di accensione e controllo del volume, che lo sapete per noi si chiama rigorosamente Volume Rocker. Ma come funziona poi nella vita di tutti i giorni Asus Zenfone 5Z? Beh, molto bene. Intanto perché c'è un processore Snapdragon 845, questo vuol dire che è un telefono che va alla grande sia nelle funzionalità, diciamo, più semplici, più elementari, quanto anche nell'utilizzo invece con i videogiochi, quindi con magari anche, diciamo, dei software che richiedono molta più potenza. Tende leggermente a surriscaldarsi, questo è un dettaglio di cui tenere assolutamente conto, soprattutto quando utilizzate un gioco, come lo so, Real Racing 3, che ha una fortissima richiesta dal punto di vista grafico. Audio spettacolare. L'audio è veramente micidiale, se sentite è un audio fortissimo e tra l'altro anche con un'ottima definizione sia per quanto riguarda le frequenze basse che le frequenze medio-alte. Diciamo che i bassi non sono proprio molto pronunciati, però è un suono abbastanza corposo e tutto sommato quando non è così alto come l'ho messo adesso, ma quando lo si abbassa un po' diventa anche gradevole da ascoltare. Software. Questa è la Zen UI 5.0. Diciamo che Asus non è mai stata proprio la migliore delle aziende smartphone per la produzione di un'interfaccia. È stata ulteriormente pulita questa Zen UI 5.0 e ci avviciniamo quasi ad un livello di gradevolezza. Ci sono molte, moltissime personalizzazioni. Potete ad esempio, vedete, nascondere il notch, che è un dettaglio. Potete utilizzare dei gesti per la navigazione, che vengono spiegati in modo molto chiaro anche in questa grafica che trovate nel telefono. Potete cambiare il layout dei pulsanti. Sono solo alcune delle indicazioni che avete per l'utilizzo del vostro telefono. Andando a vedere poi il menu proprio da vicino, vedete, non ci sono grandissimi elementi di personalizzazione, a parte quello dello sfondo e dei temi. Ci sono un po' di indicazioni di assistenza, come ad esempio gli Zenimoji. Gli Zenimoji hanno in pratica la versione di Asus di Animoji, che vi danno la possibilità di creare dei soggetti animati con il vostro telefonino. Diciamo che magari se avete più di 20 anni potreste usarlo poco nella vostra giornata. L'intelligenza artificiale invece funziona molto bene, tra l'altro con diversi interventi. Uno di questi è relativo alla batteria, perché quando utilizzate la vostra batteria viene fatta una carica fino all'80%. Il telefono apprende qual è l'ora a cui di solito voi vi svegliate e solo negli ultimi minuti fa l'ultimo 20% di carica, dunque per preservare la batteria nel lungo periodo. La fotocamera è un altro elemento secondo me importante. Doppio sensore, avete un sensore grandangolare da 120 gradi oppure un sensore della fotocamera principale da 12 megapixel e invece con ampiezza assolutamente standard. Apertura 1.8 per la fotocamera principale da 12 megapixel e ci sono i menu con cui scegliete invece la dimensione delle fotografie. Ovviamente se scegliete una fotografia con una razza diversa da 4 terzi scende la definizione delle vostre immagini. Una volta che avete scelto l'immagine della vostra fotografia potete scegliere anche di utilizzare l'effetto di profondità. Effetto di profondità che viene realizzato con la doppia fotocamera quando fate la foto principale, se usate invece la fotocamera anteriore, in quel caso l'effetto di profondità che è presente nel telefono viene realizzato con il software, dunque con il riconoscimento degli oggetti. Abbandonando l'effetto profondità, se guardiamo invece il funzionamento della fotocamera, c'è un buon livello di messa a punto e di scatto. Tra l'altro anche in questo caso l'intelligenza artificiale può aiutare per un migliore setup delle immagini e bisogna dire che la resa di questa doppia fotocamera 12-8 megapixel è più che buona. Anche la fotocamera frontale che ha da 8 megapixel e un'apertura 8.0 ha una buona qualità per quanto riguarda i selfie. Una caratteristica, potete girare anche i video con la camera grandangolare ma in quel caso sono solo 1080 pixel mentre i video che girate con la fotocamera principale, quella da 12 megapixel, possono arrivare a 4K. Insomma, Asus Zenfone 5Z secondo me è un bellissimo prodotto. Il prezzo è al di sotto di 500 euro, ha delle caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Da noi ci sono due versioni, quella da 64 e da 256 giga. Avete 6 giga di RAM nella versione da 64 giga, 8 giga di RAM nella versione da 256 giga. Un ottimo display, l'audio bello, la batteria da 3300 mAh con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la carica davvero con ottimi risultati. Io sono arrivato a fine giornata sempre con un 15-20% di autonomia residua. Insomma, questo è un prodotto che funziona veramente, veramente bene. Bello. La fotocamera non è il massimo. Diciamo che scatta delle belle fotografie ma non è tra le migliori in assoluto del mercato. Insomma, se state comprando un telefono e volete un top di gamma nella vostra lista di scelte mettete senza paura anche Asus Zenfone 5Z e voglio sapere come al solito, a voi. Piace?